Con questo tutorial vediamo come risolvere i limiti utilizzando il teorema di De L'Hopital. In particolare andiamo a vedere i limiti che hanno forma indeterminata del tipo 0 su 0. Partiamo da questo caso. Se vado a sostituire meno 2 a numeratore e a denominatore, ottengo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Questo limite verifica tutte le condizioni per poter applicare il teorema di De L'Hopital e andrò a fare la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore. Questa risulta essere la derivata del numeratore, mentre 1 è la derivata del denominatore. Ora vado a sostituire nella x il valore meno 2 e, a conti fatti, ottengo 0. Questo numero risulterà essere il limite di questa funzione. Vediamo quest'altro esempio. È facile verificare che, se andiamo a sostituire a numeratore e a denominatore al posto della x il valore meno 1, otteniamo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Allora, anche in questo caso, applichiamo il teorema di De L'Hopital andando a calcolare la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore. Ed ottengo questo nuovo limite. Ora, al posto della x a numeratore e a denominatore, vado a sostituire meno 1. A conti fatti, ottengo 7. Vediamo questi altri esempi. Parto da questo limite. Vado a sostituire 1 a numeratore e a denominatore. Ed ottengo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Allora, per risolvere questo limite, applicherò il teorema di De L'Hopital andando a calcolare la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore. La prima cosa che vado a fare è scrivere radice terza di x come x alla 1 terzo. Ora vado a calcolare la derivata del numeratore e quella del denominatore. A numeratore abbasserò un terzo e poi vado a scrivere un terzo meno 1 ottenendo x alla meno due terzi. La derivata di meno 1 è 0. A denominatore calcolo la derivata di x che è pari a 1. Questa quantità la posso andare a riscrivere in questo modo come 1 fratto 3 per radice cubica di x quadro. Ora, al posto di x, vado a sostituire 1 ed ottengo un terzo. E allora questo limite sarà uguale a 1 terzo. Vediamo quest'altro caso. Vado a sostituire 1 a numeratore e a denominatore, ottenendo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. E allora, per risolvere questo limite, applicherò il teorema di De L'Hopital. La prima cosa che vado a fare è scrivere questa radice terza di x come x alla 1 terzo. Calcolo ora la derivata del numeratore e del denominatore. La derivata di radice di x più 8 è uguale a 1 fratto 2 radice di x più 8. La derivata di 3 è 0. La derivata invece di x alla 1 terzo è uguale a 1 terzo x alla meno due terzi. La derivata di radice di x è uguale a 1 fratto 2 radice di x. E la derivata di meno 3 è 0. Semplifico 2 e 2 ed ora, al posto della x a numeratore e a denominatore, vado a sostituire 1. A numeratore, mettendo qui 1, ho 1 più 8 che è 9. La radice di 9 è pari a 3 e poi, moltiplicando per 2, si ottiene un sesto. A denominatore, mettendo 1 qui e qui, si ottiene un terzo più 1 che, a conti fatti, è pari a 4 terzi. Questa frazione di frazione la vado a scrivere come un sesto per il reciproco di 4 terzi, ossia 3 quarti. Semplificando 3 e 6 e poi, effettuando la moltiplicazione, si ottiene come risultato un ottavo. Vediamo questi altri esempi. Vado a sostituire al posto di x a numeratore e a denominatore 3 ed ottengo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Applicherò allora il teorema di De L'Hôpital. E elevato alla x meno 3 è la derivata del numeratore, mentre 2x è la derivata del denominatore. Sostituisco ora 3 a numeratore e a denominatore. 3 meno 3 ottengo 0 e alla 0 è uguale a 1. Mettendo 3 a denominatore, moltiplicando per 2, si ottiene 6. E il risultato di questo limite è un sesto. Vediamo quest'altro esempio. Al posto di x a numeratore e denominatore sostituiamo 1 ed otteniamo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Applichiamo allora il teorema di De L'Hôpital. Vado a calcolare la derivata del numeratore e del denominatore. Ora, al posto di x a numeratore, vado a sostituire 1. Ottenendo meno 2 quinti. Vediamo questi altri esempi. Parto da questo. Vado a sostituire 1 a numeratore e a denominatore. Ed ottengo logaritmo di 1 che è 0. A denominatore ottengo 0, quindi ho di nuovo 0 su 0. Per risolvere questo limite posso applicare il teorema di De L'Hôpital. E vado a scrivere la derivata del numeratore, che è questa, cioè 1 fratto f di x, che è l'argomento del logaritmo, per la derivata dell'argomento del logaritmo, che è 2, fratto la derivata del denominatore, la derivata di x, è 1. Ora vado a sostituire 1 qui a numeratore. A conti fatti si ottiene 2. Vediamo quest'altro esempio. Al posto di x a numeratore e denominatore sostituisco 1. Mettendo qui 1 ottengo logaritmo di 1 che è 0. Moltiplicato per 1 si ottiene 0. A denominatore avrò 1 meno 1 che è 0 e quindi ho una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Applico allora, per risolvere questo limite, il teorema di De L'Hôpital. Vado a calcolare la derivata del numeratore, cioè di x logaritmo di x, che è una derivata prodotto. Fratto la derivata del denominatore, ossia di x alla seconda meno 1. Osservo che qui posso andare a semplificare x ed x. Ed ora, al posto della x qui e qui, sostituisco 1. Logaritmo di 1 è pari a 0 e sommandola 1 a numeratore si ottiene 1. A denominatore otteniamo 2. E allora un mezzo è il risultato di questo limite. Vediamo questi ultimi esempi. Parto da questo. Al posto di x a numeratore e denominatore sostituisco 0. Allora, seno di 0 è 0. Meno 0 a numeratore ottengo 0. A denominatore, mettendo qui 0, ottengo 0. Quindi ho una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Applico allora il teorema di De L'Hôpital. La derivata del seno ottengo coseno, mentre meno 1 è la derivata di meno x. e derivando il denominatore si ottiene 3x quadro. Sostituendo ora 0 a numeratore e a denominatore ottengo coseno di 0 che è 1. Meno 1 è 0. Quindi il numeratore ho 0. A denominatore, mettendo qui 0, ho 0. E allora ho di nuovo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Posso allora applicare di nuovo il teorema di De L'Hôpital, calcolando la derivata del numeratore fratto la derivata del denominatore. La derivata di coseno è pari a meno sen x. La derivata di meno 1 è 0, quindi non scrivo nulla. La derivata di 3x alla seconda è pari a 6x. Sostituisco ora a numeratore e a denominatore 0. Seno di 0 è 0. Qui ottengo 0 e ho di nuovo una forma indeterminata. Applico di nuovo la regola di De L'Hôpital. La derivata di meno seno è pari a meno coseno. Ed ora vado a sostituire qui al posto della x 0. Coseno di 0 è 1, con un segno meno ottengo meno 1. E quindi ottengo meno un sesto. E meno un sesto è il risultato di questo limite. Vediamo quest'ultimo esempio. Andando a sostituire 0 a numeratore e a denominatore si ottiene 0 su 0. Allora applico di nuovo il teorema di De L'Hôpital. La derivata di x è 1, la derivata di seno è coseno. Passo al denominatore. La derivata di x quadro è pari a 2x. La derivata di x coseno di x è una derivata prodotto, che è pari a coseno x meno x sen x. Ora vado a sostituire 0 a numeratore e a denominatore. Coseno di 0 è 1, più 1, ed ottengo 2. Vediamo a denominatore. Mettendo qui 0 questa quantità sparisce. Mettendo qui 0 ottengo coseno di 0, che è pari a 1. E mettendo qui 0 ottengo 0. Quindi complessivamente il denominatore è pari a 1, che non vado a riscrivere. Allora il risultato di questo limite è 2. E con questo termino il tutorial sul teorema di De L'Hôpital sulla forma indeterminata 0 su 0.